Cari amici di Movida Television, come sempre ben trovati, io mi trovo a D'Orta di Atella precisamente al Beautiful Coffee perché è proprio qui che continuano i grandi eventi, stasera direttamente da Made in Sud, gli strepitosi a Stetica, occhio alle immagini! Da non dimenticare assolutamente la specialità del Beautiful Coffee, il Chocobabà! Eccolo mi raccomando, venite sempre tutti quanti qui ad assaggiarlo che è buonissimo! Il Beautiful Coffee mette a disposizione un'elegante e raffinata sala che è la sala Luxury! Ebbene sì cari amici di Movida, se adesso mi vedete con questo strepitoso sorriso è perché sono affiancata da una delle coppie più comiche e divertenti che io conosca, benvenuti! Addirittura! Assolutamente! Questa è una cosa di modestia che avete oppure? No, non lo so! A me a posto di male capo! Ah, bene, benissimo! Innanzitutto ragazzi, come va? Tutto bene, tutto bene! Le cose vanno bene, non ci possiamo lamentare! Infatti, so che è inutile quasi chiederlo perché è evidente, ma il lavoro come procede? Ma da mannate che... Eh, non lo posso dire! Non lo posso proprio dire però! È l'entrata! Quasi quasi! No, no, va bene, va bene, siamo contenti, la gente insomma ci sta apprezzando e questo, se neanche mai ci posso essere, perché inoltre non... Avete riscosso un grandissimo successo, mi fa molto piacere anche perché lo meritate, siete molto molto bravi, ma secondo voi cosa è la cosa che più piace al pubblico di voi? Sadduce! Ovviamente, non poteva mancare! Il suo Sadduce è la mia bellezza, ovviamente, perché quello è sempre importante! Oddio, e qui voglio il tuo riscontro! Sì, sì, ma perché tu non pensi che sia bellissimo? Dammelo guardare! È un po' un mix tra Brad Pitt e Gabriel Garco! Di più! Di più, guarda, di più, di più! E allora, vogliamo soddisfare un po' la curiosità del vostro pubblico? Quindi, c'è qualcosina che bolla in pentola? Ma a livello lavorativo... Ovviamente, sempre lavorativo, sempre nell'agenzia delle entrate, devo sapere, no? La velocità più grande delle donne è sapere se io sono single! Ah, chiediamo anche questo, se sei single! Assolutamente sì, quindi... No, ma siamo proprio noi, non è che andiamo sulle serate per lavorare, noi andiamo sulle serate per cercare qualcuno caso figlio! Va bene! Cioè, il nostro scopo in realtà è questo! Facciamo un appello allora per lui, quindi... L'altro può dimorare un numero di telefono, possiamo lasciarlo... Aspetta, aspetta, aspetta! Puoi mostrare un attimino la mano alla telecamera? Che cosa è questa? Ma, perché secondo te veramente... Se non teniva la felicità a Jensen e a tutti i vestiti, veramente... No, assolutamente! Sì, o mai era... Ho dei dubbi, dei grossi dubbi! Ragazzi, voi stasera sarete protagonisti assoluti qui al Beautiful Coffee! Sì! Vi piace questa situazione? Bella, molto bella! Assolutamente! Perfetto! E allora, insieme a me facciamo un grande saluto per tutti gli amici di Movita Television e per il vostro pubblico! Vita, saluta gli amici di Movita Television! Ciao a tutti i miei di Televisio! Ciao, battiti! Ciao! Ciao! Allora, Maria e Jessica, come mai stasera avete scelto il Beautiful Coffee? Perché gli atleti sono fantastici! Perché li amo! Come mai stasera avete scelto il Beautiful Coffee? Mi piace! Per vedere gli Artetica, così ci facciamo due risate! Perché questo è un locale molto bello e proprio degli Artetica! Finalmente ci siamo! Ha iniziato lo spettacolo dei meravigliosi e simpaticissimi Artetica! Buona visione! Buona visione! Vai, voi se ci intapigliamo il culo! Vai, vai via! No! A dove? No, no! Facciamo una cosa! Ho ripesato dopo il Domenico andro! Buonasera! Buonasera! C'è un spettacolo! Il biglietto e il culo vanno di loro! Ho spettato la passenza di... Ho comandone, ho spettato! Vita! Emo! Cuore! Emo! Battito! Emo! Ha ci spaccato! Eccata prima figura in me! Quanti di voi, ma qua Beautiful, sono venuti insieme? A casa se ne vanno insieme? Perché quantomeno abitano insieme? Ma tutta questa increatura, lo so! Finalmente questo giorno è arrivato! Ho sempre sognato di sposarmi con un uomo pieno di... Charme! Fascino! Carisma! Mamma mia! Caccio combinato! A proposito, vogliamo passare i 15 giorni più belli della nostra vita? Sì! Allora ci vediamo tra 15 giorni! Mi ha tolto i peli dalle gambe, i peli dall'inguine, i peli dalle braccia, mi ha fatto le sopracciglie e mi ha tolto il baffetto! Mamma, mi sono sposato! Con queste belle immagini che sono alle mie spalle con l'esibizione degli Artetica, io vi saluto da parte dei Beautiful Coffee, Movita Television e tutto! Anna Traiello vi manda un grosso bacio! Ciao, alla prossima! Ciao! 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 Grazie a tutti